Benvenuti a Udaipur, la città cosiddetta più romantica dell'India, dove noi siamo arrivati dopo una lunga giornata da Jodpur. Come dice Cristiana, l'Alicia Colò dell'India non funziona molto bene, voleva indicarvi alle sue spalle il GAT con le persone che si lavano e lavano i panni. E poi che abbiamo fatto stamattina là in cima, Silvia, in quel posto con le torri? Abbiamo provato un caffè nel palazzo del Maragia e se è per questo ci abbiamo anche fatto pipì, in un bagno tutto pieno di marmi. Domani sera andremo a Bundi, dove Kipling ha scritto parte delle sue storie. Arrivederci a tutti, stiamo bene.